eccoci qua buongiorno tutti i signori oggi che è il 30 il 30 di aprile siamo qua alla kuwait e siamo qua a mettere 50 euro di combustibile diamo un attimino vedete sapete che sono arrivati i buoni di sera stasera comincieremo a distribuirli però volevo fare un po anche capire che i buoni ci sono vedete sono qui alla kuwait vediamo un po dopo andremo a parlare con il titolare della della pompa del distributore ed è una cosa fantastica avere questo servizio e averlo avere questo accordo il 50 per cento in guanna e 50 per cento in euro praticamente adesso i 25 euro che ho appena consumato sono quelli spesi realmente gli altri invece sarebbe con guancò in 25 euro mi rimangono in tasca e questa è la forza del nostro grande progetto one life ma non potete immaginare cosa succederà sabato sabato ci sarà un grandissimo evento con delle grandi sorprese è un altro grande partner che è salito a bordo con noi lo presenterà proprio il partner stesso con i propri legali e rimarrete veramente scioccati da quello che ormai salgono a bordo tutti con noi l'italia farà veramente la storia a livello mondiale nessuno veramente orgoglioso e soprattutto vedere anche adesso la patti la franca che stanno facendo formazione su quello che riguarda il progetto del dia shake e soprattutto di di lima eccolo qua togliamo vero o male andiamo a fare un giretto all'interno così almeno vi vedete anche allora eccoci qua allora aspettiamo un attimo il titolare che arriva e così gli diamo il bel coupon il voucher il ticket da 50 euro è andato un attimo a fare il pieno una macchina comunque tanto non ha importanza quello che conta e ragazzi stanno arrivando è una situazione veramente bella un sogno che stiamo vivendo perché un anno fa vi raccontavo che un giorno arriveremo a pagare al supermercato arriveremo a pagare a quello che riguarda la benzina e tutti quelli che sono stati che praticamente ho fatto che ho avuto si sono realizzati e che dirvi vediamo un attimino che ritorni così facciamo questo pagamento portate pazienza sotto ci sta una telefonata ma attenderanno qualche minuto è giusto che più persone grande e potente servizio che abbiamo portato dentro la nostra comunità sta iniziando a piovere vediamo se arriva e comunque per quello che riguarda i buoni servono 10 12 giorni lavorativi dal momento che arriva il bonifico e come abbiamo scritto e siamo un po in ritardo causa un po il periodo che manca il personale ma dal 4 maggio si si ci sarà più continuità più tranquillità in merito a tutto questo visto che mi state chiedendo e un attimo di attesa perché titolare è andato a fare un rifornimento intendiamo che ritorni insomma domani mattina agli 11 vi aspetto tutti in diretta che vi farò vedere una persona molto importante che e soprattutto quella legge dell'attrazione cosa si può realizzare cosa si può sviluppare preparatevi veramente sabato domani pomeriggio faremo un corso che riguarda che riguarda soprattutto al concetto della di come invitare le persone sabato di essere presenti e sabato devo fare un evento veramente importante eccoci qua ciao ciao ascolta allora io ho fatto messo dentro 50 euro di gasolio e esatto tu tu conosci guangoi si la conosci da tempo ho sentito parlare ecco perciò tu adesso ricevi tranquillamente 50 euro giusto ok 50 euro pensa che abbiamo un accordo che facciamo 50 50 con one coin e euro abbiamo fatto un accordo bene e ascolta ci sono delle grandi novità sabato se ti mando il link ti colleghi con zoom onoretta così senti cosa sta succedendo con questa azienda ok sabato te lo mando ti raccomando e ci vediamo sabato allora pagato hai ricevuto i 50 euro a posto grazie 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 mille buon procedimento grazie ti mando il link sul numero cellulare che mi ha dato stamattina il tuo collega ok ti mando tutto ciao davide buona giornata e ragazzi ecco qua 50 euro come detto e via e via alla massima potenza